Depuratori, il dado è tratto. Entrosera la società Alfa acquisirà ufficialmente gli impianti che fanno capo a 123 comuni del Varese 8, capoluogo compreso. Al via un nuovo corso, non solo tecnico, ma anche squisitamente pratico. Alfa sta diventando una società di riferimento per il territorio. Col comune di Varese ci sono stati dei momenti di frizione perché probabilmente non si riusciva a trovare un modus operandi. Grazie a una collaborazione un pochina più stretta, oggi finalmente possiamo dire che si sono normalizzati i rapporti ed oggettivamente avere il comune capoluogo nella propria compagine nazionale è sicuramente un punto qualificante per la nostra società. Per l'uomo della strada, per colui che a differenza di lei non si intende tanto degli argomenti, che cosa cambia? Avere un gestore unico, avere un'unica cabina regia, avere un solo interlocutore per tutti i depuratori, nel concreto cosa significa? Nel concreto significa avere un unico punto di riferimento. Purtroppo il sistema idrico era sempre stato molto polverizzato, così non solo per la depurazione, ma anche per gli acquedotti, per le fognature. Oggi con il gestore unico, quindi un'unica azienda capace e autorizzata di intervenire, si possono concentrare meglio gli investimenti. Io voglio ricordare che la depurazione è strategica per vari motivi, in primis per la tutela ambientale del territorio. Cito per esempio il fiume Olona, piuttosto che il grande progetto della balneazione del lago di Varese, grazie all'accordo quadro che ha visto i comuni lacustri, noi con la regia di Regione Lombardia. Quello che sembrava un'utopia, oggi può diventare una bellissima realtà. Noi abbiamo raccontato spesso di un problema nazionale e quindi legato anche ai vostri sistemi, ai vostri infrastrutture, cioè di tanta acqua che si perde perché gli impianti andrebbero ammodernati. Anche questo è in agenda? Assolutamente sì, purtroppo la dispersione idrica in provincia di Varese è ancora importante, supera il 40%, ci sono in programma investimenti importantissimi. Parliamo di investimenti di 300 milioni di Euro nei prossimi 20 anni. Sono cifre che possono sembrare incredibili, possono spaventare, ma sono soldi che attraverso una serie di sistemi di finanziamento, noi per esempio abbiamo fatto la richiesta per accedere anche al Recovery Fund con una richiesta importante di 100 milioni di Euro, stiamo cercando appunto di andare a recuperare tutte queste risorse perché la carenza idrica è un problema che anche in provincia di Varese stiamo e dobbiamo iniziare ad affrontare. Noi siamo una provincia ricca d'acqua, ma anche le nostre falde acquifere si stanno abbassando. Noi siamo una provincia ricca d'acqua, ma anche le nostre falde acquifere si stanno abbassando.